L'amore che me viene in piede, la magura viene, l'amore che me viene in piede. Possiamo cominciare, intanto devo dire che sono molto contento di tornare finalmente in presenza, senza restrizioni, senza vincoli e vedere che la sala è sufficientemente piena, la cosa mi viene davanti di gioia, rivedere tanti soci che non vedevo da parecchio tempo, vedere persone che non ho mai visto e quindi mi rallegra molto. Non mi rubo tempo in chiacchiere perché abbiamo tutti voglia di ascoltare cosa ci raccontano della peste vera, implementato per rimanere in clima pandemico e a parlarci di questa peste nera, l'occasione è data dall'uscita freschissima di questo volume pubblicato da Carocci, di Aperto Lungo, al centro, al centro anche della nostra attenzione, e coadiuato da Valdelena Moglia dell'Università degli Studi di Milano e da Vittoria Bufagno dell'Università degli Studi di Firenze. Quindi io direi che la metto subito la parola da Aperto che si occuperà anche di coordinare le sue colleghe. Grazie a tutti e con la scuola. Eccoci, grazie a tutti per essere qui e grazie a Italia Medievale e a Polizio Tagli per questa gentile opportunità di poter presentare il libro. In realtà ho voluto chiamare due colleghe e due amiche per aiutarmi a fare questa presentazione, quindi direi senza ulteriori indugi lascio subito la parola a Maddalena Moglia che inizierà questa presentazione, parla a dialogo insomma tra di noi su questo argomento, la peste nera appunto relativa al libro. Prego. Grazie, buon pomeriggio a tutti. Innanzitutto anche ci vengo a ringraziare molto a Maurizio Calì, tagli anni Medievale, gli organizzatori e Alberto per avermi chiesto insieme a Vittoria di presentare il suo ultimo libro. Io comincio subito dicendo che questo è un libro importante, innanzitutto perché il tema di cui tratta la peste nera, un'epidemia porta con sé tutta una serie di domande sulle sue cause, sulle conseguenze, su come è cambiata la società, che sono domande tornate molto attuali per noi oggi per il periodo di pandemia che abbiamo vissuto e che stiamo vivendo. La peste nera è stato un evento davvero periodizzante per la storia del nostro continente, come poi Alberto spiega bene nell'ultimo capitolo che è un po' la conclusione di questo volume. E' un libro importante perché di fatto è la prima sintesi sulla storia della peste in Italia. Ovviamente la peste è stata, proprio perché è stato un evento drammatico e periodizzante, è stata trattata in tantissimi studi, anche per l'Italia, ma in questi studi la peste non era mai il centro delle analisi, ma rientrava e portava in sé altri problemi o comunque un po' forse si perdeva nel quadro più generale della crisi del 300, accanto alle guerre, alle carestie, eccetera. E questa invece è proprio la prima sintesi che ha al centro l'Italia. E la peste in Italia è veramente analizzata in questo volume a 360 gradi. Se scordiamo l'indice dei dieci capitoli vediamo che sono presentate di fatto tutte le dimensioni della peste, sia quelle legate proprio alla natura dell'epidemia, quindi sono presentati anche gli studi scientifici più aggiornati, e poi tutte le altre dimensioni, anche la politica, quella economica, la dimensione letteraria del problema della peste. E tutte queste sfaccettature che analizzano la peste del 300 in Italia mostrano davvero qual è la complessità di questo tema. Questa complessità emerge bene, se guardiamo per esempio, a come le società reagiscono all'epidemia. E qui Alberto mostra benissimo come, a seconda delle fonti che noi guardiamo, interroghiamo, ci si aprono scenari molto diversi. Per esempio, proprio sul tema di come la società reagisce alla pandemia, se partiamo dalle fonti letterarie, quindi dai poeti, uno di primo su tutti Boccaccio, ma nel testo sono presentati anche da tantissimi altri autori, vediamo che in queste fonti, in queste cronache, che cosa emerge? Lo scenario che ci si apre è quello di una società allo sbando, una società divisa tra egoismi o persone che si danno ai piaceri più sprenati per contrastare questa situazione di morte, e dall'altra parte vediamo come le persone fuggono, i malati sono lasciati da soli, senza i confronti religiosi, però quindi appunto vediamo una società in cui i legami familiari sono sprecassati. Alberto però ci fa capire bene che bisogna stare attenti quando guardiamo alle fonti, perché ci dice attenzione, lo scopo di questi autori, di questi letterati, non è tanto quello di presentarci quello che era davvero il comportamento sociale di fronte all'epidemia, ma è quello di mostrare tutta la sua drammaticità. Per cui anche attraverso il recupero di schemi narrativi provenienti anche dalla letteratura precedente, è appunto quello che si vuole mettere in primo piano, proprio il trama della peste. Se guardiamo altre fonti, davvero a me è sembrato proprio che l'autore, in particolare ci accompagnasse il lettore per mano a questo lavoro, per svelare pagina o più pagina la complessità della nostra prospettiva ancora diversa. E vediamo per esempio, se guardiamo gli atti pubblici, come le autorità cercano di stare di fronte a questa epidemia. E vediamo che appunto ci sono tutta una serie di provvedimenti, alcuni di carattere amministrativo. Loro non avevano le conoscenze mediche che abbiamo noi oggi, però su una base molto empirica osservavano che se il contagio si diffondeva con la vicinanza fisica, per cui si cerca di evitare gli assembramenti, vengono chiuse le taverne. Accanto a questo tutta una serie invece di provvedimenti molto tecnici, la scelta dell'uomo in scultura, la dimensione delle fosse. Quindi tutta una serie di provvedimenti amministrativi, ma anche da parte dei governi e delle autorità pubbliche, anche provvedimenti di tipo religioso. Questa è una società dove era facile pensare che tutto quello che accadeva era collegare a un legame con Dio, l'immaginario e l'immaginario biblico, per cui i peccati degli uomini vengono puniti con le epidemie, come succede nella Bibbia, come viene raccontato nella Bibbia. E quindi ai governi, le autorità pubbliche, non vogliono solamente cercare di... non guardano la salvezza dei propri cittadini solo attraverso provvedimenti civici, ma anche attraverso provvedimenti religiosi. Convolgendo i parroci vengono messi, vengono organizzate molte processioni, dove vengono esposte le reliquie dei santi, vengono chiamate predicatori. E tra l'altro è molto interessante il fatto che la peste cambia anche i santi. Per esempio, Alberto nel libro mostra come vengono recuperate delle figure di santi legate all'epidemia, quella della peste giustinianea, come per esempio San Sebastiano, il cui burto si era perso nei secoli, torna in auge proprio con la peste nera, vengono dedicati un sacco di altari nelle città, cioè ad esempio di Pisa, soprattutto di Firenze, ma anche Padua, nelle cattedrale cittadine a San Sebastiano. Ed è molto interessante anche vedere come l'iconografia di questo santo, del suo martirio, è l'iconografia che forse abbiamo in mente più oggi, quindi quella di un santo trafitto da molte frecce, che non c'entra di fatto invece con quello che fu il martirio storico di questo santo. E se guardiamo la copertina di questo libro vediamo che la peste è proprio presentata, questa è una bellissima allegoria di Arias e Neve, e vediamo che appunto la peste scaglia le frecce contro questi cittadini ignari che però sono già stati colpiti da queste frecce. quindi vediamo come davvero a 360 gradi la peste colpisce anche l'immagine. Perché siamo a Milano e sappiamo che è stata risparmiata dalla prima ondata per quello che è riuscito a fare il governo cittadino. Quindi volevo chiederti se ci raccontavi un po' appunto cosa è successo a Milano. Grazie. Allora sì, tanto grazie per questa così di introduzione, per questa domanda, che in effetti è una domanda abbastanza interessante perché appunto noi sappiamo che Milano sembra risentire molto meno rispetto che appunto al resto d'Italia dell'arrivo della prima ondata di peste, cioè quella del 1348. Poi la successiva nel 1361 invece la prende in pieno e quindi diciamo l'appuntamento con lo spopolamento della città è rimandato solamente di un po' più di dieci anni. effettivamente sono molto poche le aree d'Europa caratterizzate da questa scarsa efficacia del battello della peste. Ed è un problema interessante provare a capire perché, perché appunto giustamente Maddalena accennava i provvedimenti del comune di Milano che noi conosciamo soprattutto sulla base di alcune cronache, peraltro la maggior parte di estrazione non milanese, non lombarda, quindi anche questo è un problema diciamo interessante da affrontare. e poi soprattutto dobbiamo fare i conti per tentare anche di dare una spiegazione che appunto non è semplice, perché come diceva anche prima Maddalena, Milano non è l'unica città a tentare di prendere dei provvedimenti, però altre città invece soffrono tanto del contagio mentre invece Milano sembra appunto non soffrire della prima ondata. e quindi dobbiamo un po' interrogarci su come funzionava questo contagio, su come arriva proprio tecnicamente la peste in Europa e prima di tutto in Italia, Italia porta l'ingresso del batterio in Europa. Ecco, molto brevemente, anche qui sull'arrivo della peste in Europa, ultimamente sappiamo alcune cose nuove grazie ad alcuni studi molto molto recenti. fino a poco tempo fa, ovviamente qualcuno di voi l'ha sentita questa storia, si dà da retta, l'ho preso conto, di qualche anno posteriore, di Gabriele di Mussi, di Accentino, che scrive appunto questa storia della peste, è una delle prime, è finissime, se non la prima, insomma, storia, diciamo, monografia sulla peste scritta appunto nel Trecento. Ed è un'opera, in realtà, a leggerla bene, fortemente influenzata dall'immaginario biblico appunto a cui faceva riferimento prima Maddalena, quindi un'opera che serve prima di tutto per far capire ai lettori la decadenza morale e spirituale che è alla base appunto della punizione divina. Questa versione, diciamo, oggi non è più accettabile, va in vista, perché sappiamo anzi che è vero il contrario, cioè non fu la guerra a portare la peste, ma fu la pace successiva a questa guerra, perché anche grazie alle analisi, agli studi compiuti dalla Commissione Britannica, mi riferisco alla terza grande pandemia di peste, quella di fine Ottocento, che si sviluppò in Oriente e che poi appunto condusse all'identificazione del batterio della peste, di due scienziati, uno giapponese e uno svizzero, Yersin, e poi un nome scientifico del batterio, Yersinia Pestis, dicevo appunto, all'epoca, l'Inter, il Regno Unito, che era responsabile di quei territori, l'India, appunto dei territori orientali dell'impero britannico, portò avanti una commissione di inchiesta e già all'epoca risultò centrale il ruolo dei magazzini di grano, cioè i magazzini di grano erano fortemente suscettibili di essere frequentati, diciamo così, dai topi portatori del batterio della peste e quindi tramite il commercio dei grani, tramite la presenza del grano nella società, il batterio veniva in qualche modo diffuso tra le lavorazioni, comunque in un epoca in cui l'agricoltura non ha i mezzi e gli standard che ha oggi. Persino la Sicilia, che tradizionalmente è un territorio che esporta grano in Italia, in quegli anni lì soffre particolarmente, perché per continuare a giocare questo ruolo importante nell'esportazione dei grani decide appunto di mettere tutte le eccedenze nell'esportazione, però rimane poco poi da consumare per la popolazione locale. Quindi ci si rivolge a un territorio che ha ampie distese di grano da poter esportare e appunto quello, insomma, le cultivazioni legate appunto alle aree circostanti al mare nero che i veneziani e i genudezi portano periodicamente in Italia. La guerra, come dicevo prima, i CAF, i provenziani, i mongoli e i dordatò, per un po' interrompe questo commercio, da qui una certa crisi, poi però nel 1347 questo conflitto finisce e quindi è che riprendono in maniera ancora più massiccia le esportazioni di grano dal barbino. Ed è appunto seguendo le linee commerciali, le vie di comunicazione che portano i grani in Italia che possiamo avere una mappa abbastanza fedele del percorso del contagio in Italia. Quindi il primo appunto luogo di diffusione è il Porto di Messina, anche qui non è sicuro se stiamo parlando dell'agosto o dell'attività di settembre, comunque tra l'estate e l'inizio dell'ottuno del 1947 arriva appunto le prime navi genovesi, i CAI che è il grano, arrivano a Messina e l'epidemia si diffonde in tutta la Sicilia in maniera anche abbastanza rapida. E poi piadino dagli altri porti, Napoli, Genova, Venezia, Pisa, questa epidemia entra dentro l'Apinisola Italiana. Perché Milano no? O molto poco. Perché? Perché Milano da una parte appunto tempestivamente, essendo appunto al centro dell'Apinisola Padana. Quindi in qualche modo, parliamoci chiaro, non solo Milano ma anche tante altre città non vengono corte completamente impreparate. Cioè arrivano le notizie che a Genova, Pisa, Venezia, nei porti questa malattia sconosciuta e fortemente contagiosa e fortemente mortale si sta diffondendo. Quindi non è che le città più dell'entroterra fossero completamente ignare di quello che li aspettavano. Quindi, come vi dicevo, molte città tentano di prendere provvedimenti per tentare di limitare i danni. Di quello non si può. Milano lo fa in maniera abbastanza vigorosa. Si chiudono le case degli appestati e si dà subito fuoco a strutture, a case, a vestiti, a tutto ciò che entra in contatto con gli ammalati. Si chiudono le porte, c'è proprio una chiusura delle mura molto molto forte. Si tenta appunto di limitare il più possibile i contatti con l'esterno. Sono misure molto molto forti che evidentemente funzionano. Dall'altra parte però non posso fare a meno di pensare, dato appunto quello che sappiamo oggi su questa questione del grano che vi dicevo, che Milano in realtà, e questo deriva anche da scudi che abbiamo fatto con Baddalena e Vittoria su un periodo precedente, ma comunque significativi, Milano è una città che sta dentro una delle aree assoluto più fertile d'Italia ed è una delle città che grazie a tutta una serie di accorgimenti legati appunto all'irrigazione, insieme all'antiglio, insieme a tutta la rete che oggi è Milini che si diffonde appunto per gran parte del contatto milanese e della Pianura Badana, è diciamo una città che probabilmente ha meno bisogno di importare grano dall'altra fuori. quindi la prima ondata, quindi probabilmente c'è anche da aggiungere questo aspetto per tentare di capire perché Milano soffra un po' meno rispetto all'altra città per quanto riguarda la prima ondata. La seconda ondata non dobbiamo più pensare al commercio del grano come primo vettore del contagio, perché nel frattempo, appunto grazie per colpa, anzi per la prima ondata, il batterio della peste è diventato ellenico e è diventato ellenico molto probabilmente secondo studi, ipotesi anche molto recenti, fra popolazioni di eruditori di varie zone, per quanto riguarda le Alpi si è parlato della marmotta alpina e quindi ecco che nel momento in cui l'epidemia si trasferisce dagli animali, dagli evolutori agli esseri umani, ecco che in quel momento diventano gli esseri umani vettore di contagio e quindi l'essere inseriti in una struttura, in una rete commerciale, tranne l'amera nel centro dell'Italia, insomma, in una parte c'è la Genova e dall'altra c'è la Venezia, quindi c'era tutto un movimento di persone, ecco che nel 61 anche a Milano eventuali normative falliscono. Si immagina proprio qualcosa per dirci su questi argomenti. Buon pomeriggio a tutti, ringrazio anch'io chi ha avuto l'idea per iniziare questa presentazione e anche Alberto per aver scritto questo libro e aver segnato l'opportunità di leggerlo, lo commentavo oggi, forse prima di tutti, non so, è la prima presentazione, lo diciamo. Lo ringrazio anche se quando ho accettato questo invito non sapevo quanto sarebbe stato difficile perché, come ha detto anche prima Maddalena, è un libro molto denso che nel senso che analizza questo argomento molto attuale, molto bello, da tantissimi punti di vista e allora per chi lo presenta trovare, visto che non abbiamo cinque o sei ore potrebbero essere necessari, trovare individuale dei punti di interesse è stato difficile, ci ho provato in questi appunti che sono qui e quindi ecco per dire che sarà, toccherò alcuni punti e sarà una presentazione parziale, poi il libro dovete essere, se volete, e invito a farlo veramente. Parleremo un po' di economia, di quello che succede dopo la prima della peste, della risposta dell'economia, della risposta degli uomini. Vorrei però partire con una premessa importante, secondo me, per almeno due motivi, se non tre, che questo libro è stato pensato, perlomeno da Alberto, prima dello scoppio della pandemia dei nostri tempi, prima dello scoppio dell'epidemia di Cina, che sono state fatte in merito allo studio di questi ultimi anni, ma nei decine anni passati, sullo studio della peste medievale, che ha una grandissima importanza sia per la comprensione della storia dell'umanità, ma forse anche per capire i meccanismi di epidemie contemporanee, anche prima di quell'appunto che abbiamo vissuto noi. E tra l'altro da questo punto di vista, ad esempio il lavoro delle paleontropologi ha dato, e poi anche il lavoro degli storici, delle interpretazioni interessanti, io sono molto contenta che le abbia indagate da questo punto di vista Alberto, sulla presunta democraticità della peste, nel senso che la questa è sempre stata medievale, è sempre stata vista come se si fosse abbattuta in maniera indiscriminata sulla popolazione, che è vero, ma è vero di parte, ed è importante dirlo perché per tantissimo tempo gli storici, non solo, hanno, si sono concentrati su questo punto e da una parte anche naturale, nel senso che in un mondo medievale visto come il trionfo della disuguaglianza, se possiamo dire, perché spesso deve essere vero che l'hanno scritto così che lo era probabilmente, ma un po' come tantissime altre società forse, anche la nostra, è un po' basata sulla disuguaglianza. Quindi in un mondo medievale che si vedeva buio, basato sulla disuguaglianza, era rassicurante il fatto che un grande fattore esterno a quello dell'uomo fosse arrivato come una livella, che era Totò che diceva era morto, una livella, no? Fosservato come una livella che avesse interessato qualsiasi ambiente sociale, ceto sociale. anche per gli storici, per la realtà scientifica e storica, è stata in porto storica, in un modo particolare umanistica, diciamo. La peste è sempre stata indagata con grande interesse, è vero, senza forse mettere al centro la peste, ma utilizzandola, prenderla in maniera tangenziale a volte per descrivere delle grandi tendenze dell'economia, ad esempio, e perché è proprio stato visto come un momento spartiacque. Ci sono stati dei grandissimi dibattiti storiografici sulle motivazioni della peste, dell'arrivo della peste, le sue conseguenze. Possiamo citare anche senza annoiarli con i tecnicismi, però c'era chi, ad esempio, che ha ripenato, diciamo, da Boston, questo studioso inglese che riprendeva le turie maltusiane, dava alla peste un risvolto, diciamo, di riequilibrio dello scontro alla quale si era arrivato alla fine del 200, dove un grandissimo sviluppo demografico avrà portato uno squilibrio fra o popolazione che viveva nell'Europa, diciamo, medievale, e risorse disponibili, quindi, con la grande depressione demografica invece avvenuta con l'arrivo della peste, questo equilibrio si era ristabilito. C'era chi, come Hilton, diciamo, della corrente neomarxista, possiamo dire, vedeva nell'arrivo della peste un acceleratore del deteriorarsi di un particolare modo di produzione, come appunto il modo di produzione feudale. C'era anche chi, economisti storici, si è interrogato su cosa è successo all'indomani della peste, cioè ci si ritrovò in un mondo migliore o in un mondo peggiore, con più o meno opportunità per gli uomini medievali, di varie opportunità sociali, di mobilità sociale, opportunità economiche. Che mondo è riuscito, essendo stato attraversato da questa tragedia? Tra questi, appunto, se dobbiamo stabilire queste due contrapposizioni, due storici, Ruggero Romano da una parte ne, diciamo, ne individua, ne sottolinea quegli aspetti negativi, no? Parla di un'instabilità economica dopo gli anni della peste, un congelamento della mobilità sociale. Questo è un tema perché, diciamo, durante il 200, alla fine del 200, sono stati molto studiati dei percorsi di mobilità sociale, quindi nell'economia florida del 200 erano possibili percorsi di ascesa sociale, no? Attraverso le eredità, ecco, si avevano patrimoni maggiori e c'era una concentrazione dei patrimoni. Si crearono anche nuove opportunità imprenditoriali dovute anche a una nuova struttura dei consumi perché è un fatto, è evidente che queste nuove fortune di alcuni uomini che forse prima avevano le soldi della sopravvidenza per il rialzo dei salari per le eredità che avevano ricevuto, questi potevano accedere a beni ai quali prima potevano solo probabilmente sognare, no? Quindi si crea una diversificazione, non, ovviamente, una domanda aggregata maggiore perché erano di meno e quindi la domanda era minore, ma era una domanda un po' più variegata, ok? Quindi, sì, una qualità dei tergetti richiesti che andava al di là dei beni di sussistenza, diciamo così, quindi questo creava nuove effette di mercato. C'erano però anche dei risvolti negativi perché, in realtà, l'avvento dei salari, ad esempio, andò a pari passo, ad un certo punto in poi, con l'aumento dei prezzi e quindi, diciamo, si andò in realtà a creare un nuovo equilibrio, non molto più fortunato rispetto a quello di prima, nuovo equilibrio tra prezzi e salari e ci sono stati anche degli interventi molto forti da parte dei governi in merito a questo, in merito non solo a fissare i prezzi dei generali elementari, ma anche a fissare i salari, a cercare di bloccare poi il mercato del lavoro. Poi, non sempre è possibile, tra la teoria o gli atti, insomma, amministrativi di governo, la pratica ce ne passa. Però, quindi, una fortuna solo momentanea. Inoltre, diciamo, anche per quanto riguarda le eredità dei patrimoni, dipende cosa uno eredita. Puoi ereditare proprietà, puoi ereditare crediti, e questi fanno la loro fortuna, si possono ereditare debiti, debiti che, con un'economia all'inizio che era probabilmente in stagnazione, è difficile, è difficile ripagare. Questa cosa del credito, anche un'altra parte molto importante, secondo me, del libro del Berto. Sulla questione debiti e crediti bisogna fare una premessa, nel senso che noi non ci dobbiamo immaginare un mondo, cioè dobbiamo immaginare un mondo alla fine del 200, in cui anche i piccolissimi risparmiatori, per vari motivi, anche per la crisi di liquidità che stavano attraversando i comuni, le città italiane, in questo caso, alla fine del 200, anche i piccolissimi risparmiatori potevano trovare convenienza nel prestare del denaro, anche piccolissime somme di denaro, quindi non solo a richiedere dei crediti, ma anche dal prestare del denaro. Quindi, in poche parole, la questione del credito, i crediti di debiti, dei crediti, era una cosa che permeava tutta la società, non solo i grandi imprenditori, i grandi investitori, ma anche la povera gente, che aveva poco da investire o comunque da poter fare il credito, lo faceva. Quindi, diciamo che era un sistema in cui, molto infracciato, i debiti e i crediti si coinvolgeva tutta la società. E gli sconvolgimenti della peste mettono a suo quadro questo quadro. I creditori, per la paura del momento di disordine che gli stava coinvolgendo, iniziano a chiedere i crediti, iniziano a riscuotere velocemente i crediti, no? E quindi alcune famiglie si trovano in estrema difficoltà per riuscire a dare questi crediti. Quindi, ci sono tanti aspetti. E un'altra cosa importante di tutto questo che sembra un po' da complicato è il complesso, diciamo, restituire la complessità che merita anche la società che stiamo indagando. E un'altra cosa di merito, secondo Alberto, è che fa tutto questo rendendo questo libro popolato. Questo libro è un libro abitato. È abitato da uomini, da donne, da giovani, da giovani figli e figlie, da vicende familiari, di famiglie artigiane, da famiglie di imprenditori, no? Da famiglie aristocratiche, delle quali lui ci dona degli esempi, che non sono degli esempi per colorire il libro, sono degli esempi che sono esplicativi, che si realganciano a quelle teorie più generali di cui spesso si è occupata la storiografia. E mi chiedo, e chiedo all'autore, se vado a poi rispondermi, qual è il ruolo che uno storico può avere non solo nella lettura delle epidemie, delle crisi del passato, ma anche magari nella gestione delle successive crisi sociali, ovviamente non mediche, patologiche, sociali, nelle crisi che viviamo ora. E in questo senso, e finisco veramente, sono molto d'accordo. Diciamo, volevo riportarmi anche delle parole di leggere l'ultima pagina del libro, le ultime righe del libro, però non è un romanzo, non faccio nessuno spoiler. Poi c'è qualcuno al quale magari, come me, piace leggersi le ultime pagine dei romanzi prima di iniziare il libro, oppure no. Comunque, volevo leggere l'ultima pagina, in cui Alberto cita alcune frasi, alcune strati di un libro di Albert Camus. La peste, un capolavoro, definisce l'autore ed è vero. La peste, edito nel 1947, perché stavo per dire la peste del 1947, se potete mai sapere. Edito nel 1947, in cui Camus dice, la conoscenza e la memoria, scrive che la conoscenza e la memoria erano tutto ciò che l'uomo poteva guadagnare al gioco della peste e della vita. E continua. Nel mondo ci sono state tante epidemie di peste e quante guerre, eppure la peste e la guerra colgono sempre tutti alla sprovvista. Grazie mille anche a Vittoria per questa, insomma, molto approfondita e intelligente selezione di piccole, insomma, parti del mio testo. E la domanda che mi fa in conclusione è una domanda da un milione di dollari, però non voglio evitarla, perché comunque è qualcosa di importante e che soprattutto, ovviamente nel mio piccolissimo, mi sono posto anch'io. Nel senso, come ti ringrazio per averlo precisato, come dicevi tu, io insomma, mi occupo di peste, delle conseguenze della peste da una decina d'anni, in maniera all'inizio solo appunto tangenziale, ad altri argomenti di studio poi sempre più, in maniera sempre più mirata, per cui quando poi, a un certo punto, una pandemia è arrivata, e appunto mi sono trovato, come tutti noi, a viverla, da tardi dentro, diciamo così, non solo da tardi fuori, inevitabilmente mi sono chiesto, questo libro, come lo devo scrivere, cioè il fatto di stare attraversando un momento per certi versi simile a quello che sto descrivendo, Influenza con influenza è il modo in cui lo scrivo. E devo dire che alla fine io mi sono sforzato, lo scrivo anche nel libro, di andare a diritto per la mia strada, senza troppo concedere alle analogie tra passate e presente. Perché? Allora, intanto i pochi colleghi, i medievisti che ho visto intervenire in questo diennio pandemico, sui grandi mezzi di comunicazione, spesso puntavano sull'analogia, su di dire guardate le misure, la quarantena, l'isolamento, l'antiassemblamento, sono già quelle che utilizzavano nel 1348, oppure, appunto, in generale, sulle state giornalistiche, anche adesso, sia prima con la pandemia, poi con lo scopio della guerra, ho visto spesso titoli con la storia è tornata, e in realtà appunto la storia non si è mai andata, siamo probabilmente noi che viviamo da qualche anno a questa parte una sorta di eterno presente che appunto fa difficoltà a pensarci come dentro un processo storico e quindi a pensarci non solo come il risultato di un passato ma anche e soprattutto, perché secondo me la storia serve soprattutto a questo, a vedere noi come il passato del nostro futuro e quindi ad agire in un certo modo piuttosto che in un altro. E da questo punto di vista, quindi, io sono profondamente convinto che l'utilità del discorso storico e dell'approccio storico sia partire dalle differenze, invece che dalle analogie, perché il rischio è quello di prendere per analogie cose che in realtà sono inserite in un contesto completamente diverso rispetto appunto a quello che stiamo vivendo nel presente e quindi alla fine di non avere tanti strumenti per capire. L'esercizio storico è utile perché io analizzando un problema in un determinato contesto storico, poi affino le mie capacità per tentare di analizzarlo nel contesto presente stando però prima attento alle differenze perché altrimenti rischiamo di, come dire, di prendere degli avvali. Però tenendo presente appunto la dimensione storica, noi non possiamo negare che nel momento in cui Ovid appunto è arrivato spesso si erano impreparati perché appunto in un rapporto banalmente mancavano le mascherine perché pensavamo che non avevano bisogno. Quindi anche appunto il fatto di dire, guardate che le mie non sono una cosa solo di chissà quanti anni fa, ma possono succedere in ogni momento, così come le guerre, ci deve in qualche modo fa sempre stare sul, dico con l'ansia, per dire oddio, ma perlomeno di dire, può succedere, nel caso succeda, abbiamo i mezzi, abbiamo dei protocolli, abbiamo qualche cosa che funziona e che in qualche modo ci può aiutare. Quindi non pensare di essere immuni dalle determinate cose. Da qui appunto, in un senso, no, la consapevolezza storica del fatto che appunto viviamo, che ovviamente non si riferisce solo a questi eventi tragici, a trappiamoci chiaro, si riferisce a tanti aspetti della realtà, ma che appunto non viviamo in una realtà statica, in un qualcosa che è sempre uguale, che non cambierà mai, che rimanga sempre così. Che io, non lo so, magari sbaglierò, ma penso che siano pensieri in cui oggi siamo spesso immessi, no? Che cose non cambiano, tanto ormai tutto va in una direzione isolabile, spesso i discorsi che vengono fatti hanno un po' questa caratteristica. Invece studiare storia ci fa capire che cose cambiano, va bene, che possono cambiare, i contesti sono diversi e appunto da qui si può imparare molto. Gli antropologi lo chiamano il giro lungo dell'antropologia, si fa a studiare le comunità appunto dei big may della foresta equatoriale per poi tornare alla nostra comunità e tentare di interlocarci su quelle che sono le nostre visioni, i nostri immaginari, i nostri modi di pensare. Senza ovviamente voler minimamente sminuire la tragedia che tante famiglie e tante persone hanno passato negli ultimi due anni, ma che è sempre troppa e sempre tragica, ma appunto come si diceva prima, la peste del 1847 porta via in media un terzo della popolazione in Europa con punte del 50-70%. Noi immaginiamoci una situazione del genere in cui improvvisamente in certi luoghi una persona su due non c'è più nel giro di 3, 4, 5 settimane. Quindi abbiamo città di 18 mila abitanti come Prato che nel giro di pochi mesi si ritrova ad averne 5 mila. Siena passa ad averne 50 ad averne 20 mila nel giro di un'estate. Quindi appunto è vero che soprattutto nella fase iniziale, nella prima ondata, è una malattia che, come è stato giustamente detto, procede dai poveri. Si pauperizza diventa una malattia dei poveri man mano che diventa sempre più idemica. Inizialmente, è chiaro, chi vive in determinate condizioni è più soggetto a essere contagiato, ma poi appunto dai poveri arriva anche a tutta una serie di... spesso trovate letto, trovate scritto da qualche parte, è quello giusto che in realtà furono pochi i ricchi e i potenti che si ammalano un numero di peste. Grazie a tutti. Grazie a tutti.